Al Teatro Comunale di Città Sant'Angelo un convegno organizzato dall'Airdo, l'Associazione Donatori Organi, ha affrontato un tema assai spinoso. La pandemia ci ha regalato tra l'altro un calo di fiducia nel rapporto medico-paziente e famiglia. Un fenomeno preoccupante nella donazione di organi dove è necessario l'assenso del paziente o dei suoi familiari. I medici si trovano in una situazione estremamente delicata a confrontarsi con la famiglia se non si è manifestata la volontà, ovviamente per avere il sì che poi ci consente di donare vita. E ovviamente in un momento così delicato, di estremo dolore, è assai complesso istaurare una relazione e entrare in piena empatia con i familiari. L'iperspecializzazione e la creazione di protocolli strutturati spesso crea nel paziente un'aspettativa differente in cui spesso, come è capitato anche negli anni di pandemia che abbiamo vissuto, si porta ad informarsi, ad aggiornarsi in maniera autonoma e quindi viene a perdersi una fiducia nei confronti del professionista. Pianto in Abruzzo. Il trapianto in Abruzzo diciamo che abbiamo bisogno di lavorare in rete, l'Aido regionale ha lavorato per stipulare dei protocolli con l'ANED e soprattutto con l'ANCE Abruzzo, l'abbiamo siglato il 4 ottobre per avere soprattutto una formazione e informazione di tutta la popolazione, in particolar modo dei comuni, dove si può registrare la propria volontà quando si rinnova la carta di identità. Ed è importante farlo sia in comune ma soprattutto con Aido che dall'anno scorso anche un'app che consente in pochi minuti attraverso lo speed di dire sì alla donazione e quindi sì alla vita. Il rapporto medico-paziente in terapia intensiva è un rapporto molto particolare ed è incentrato sicuramente sulla comunicazione quando è possibile. Molto spesso i pazienti in terapia intensiva però sono sedati e quindi non sono in grado di comunicare o sono in grado di farlo solo parzialmente, per cui diventa centrale il ruolo delle famiglie. Molto spesso in terapia intensiva è un rapporto medico-famiglia più che medico-paziente e è un rapporto incentrato sulla comunicazione sulla quale investiamo moltissimo. Quali sono i numeri adesso? I numeri adesso diciamo che siamo intorno sopra la media nazionale per le opposizioni, quindi oltre il 30% e ovviamente abbiamo bisogno di abbassare questi numeri perché la lista d'attesa è ancora folta, insomma sono più di 8.000 persone a livello nazionale che attendono un trapianto e quindi dobbiamo raccogliere più manifestazioni possibili, ovviamente positive, per avere più possibilità di salvare delle vite e di donare nuova vita a persone che sono in questo momento in lista d'attesa.